Guarino Guarini. Guarino Guarini è un architetto, ma anche studioso, scrittore di vari saggi, magari soprattutto sull'architettura, ma non solo, anche sulla matematica, sulla filosofia. E' stato sacerdote anche. E' nato a Modena nel 1624 ed è morto a Milano nel 1683. Si è formato a Roma. Ecco, ovviamente, diciamo che l'apprendistato, la formazione a Roma è stata molto importante. Perché lui è capitato a Roma quando c'era Borromini, quindi in una fase importantissima. Ciao a Simone, intanto, dello sbocciare, anzi matura, diciamo, del barocco romano. In realtà, però, noi lo ricordiamo per le cose straordinarie che ha fatto, soprattutto a Torino, dove è diventato uno dei massimi esponenti del barocco piemontese. Se pensiamo, in particolar modo, alla Cappella della Santa Sindone, o Sacra Sindone, nel Duomo, al Palazzo Carignano e alla Chiesa di San Lorenzo. Bene, incominciamo allora il nostro viaggio alla scoperta di Guarino Guarini. Questo è un ritratto, che è una calcografia, che è del 1683. E quindi è praticamente l'anno della sua morte, come abbiamo ricordato prima. Allora, stavamo dicendo che, insomma, aveva iniziato i suoi studi a studiare nella città di Modena, dove era nato, presso la casa dei chierici regolari Teatini. Poi, come dire, c'era da dire che, a Modena, per esempio, anche questo ambiente scolastico, tra virgolette, di ordini religiosi, in realtà era molto aperto ai fermenti scientifici e anche, diciamo, artistici, e quindi, per esempio, conoscevano la cultura dell'architettura in quel di Modena. E così, Guarini, Guarino Guarini, seguì le orme del fratello Eugenio, Eugenio Guarini, era entrato nell'ordine dei Teatini. E anche lui, quindi entusiasta di questa formazione presso quest'ordine religioso, divenne, appunto, come stavamo spiegando prima, sacerdote in quest'ordine religioso dei Teatini. Poi, per il noviziato, a circa 15 anni, si trasferì a Roma e lì studiò svariate materie, tra cui teologia, filosofia, matematica e architettura. Questa, ovviamente, fu la materia che lo affascinò, perché era evidente, cioè, insomma, già, era questa Roma, una Roma straordinaria, con tante ancora vestigia del passato. E poi, ancora, con tante orme, tracce di un fervore artistico che, appunto, culminava, all'epoca, nei nomi di Gian Lorenzo Bernini e di Francesco Borromini, ma non solo, anche un certo Pietro da Cortona. Fu, però, soprattutto il Borromini a formare artisticamente Guarini, perché, indirettamente, perché lui, cioè Guarino Guarini, vide i cantieri di San Carlino alle Quattro Fontane, dell'Oratorio dei Filippini, di Santivo alla Sapienza, insomma, di alcune costruzioni, chiese, eccetera, che stava facendo, in quell'epoca, proprio il nostro Borromini. Ciao, ciao Simone, intanto, eh! Nel febbraio del 1645, quindi, comunque, non molto, cioè, ancora piuttosto giovane, eh! Aveva un 21 anni, circa. Guarini si recò a Venezia, ospite del convento di San Nicola dei Tolentini, dove terminò con successo gli studi teologici diventando suddiacono. Tornato a Modena nel 1647, fu ordinato sacerdote, revisore dei conti della Casa Teatina, cioè del suo ordine religioso, Poi, sovrintendenza dei lavori alla nuova Casa dell'Ordine, quindi inserendosi, magari all'inizio, proprio come chi poteva dare una mano per delle costruzioni, come per esempio la Chiesa di San Vincenzo, che era stata iniziata parecchi decenni prima da un certo Paolo Reggiani, e quasi completata. Si ipotizza che lui, comunque, abbia dato l'apporto finale, un intervento progettistico, alla fine della costruzione di questa chiesa. Iniziò a collaborare con l'architetto Teatino, Bernardo Castagnini, che gli insegnò i rudimenti della costruzione, e con Bartolomeo Avanzini, architetto ufficiale di Francesco I d'Este, gli estensi, Ferrara, ebbe modo di completare la sua formazione con l'esperienza diretta nei cantieri. lavori procedevano, insomma, poi a causa delle condizioni di stabilità del progetto di Avanzini, non molto stabile in realtà, un progetto piuttosto instabile, di questo architetto ufficiale di Francesco I d'Este. E poi c'erano state delle magagne, insomma, forse dei furti di denaro, e lui era il cassiere, quindi era stato incolpato di essersi possessato di soldi. lui andò via. A trent'anni venne nominato preposto della Casa Teatina di Modena, però il duca Alfonso IV, che stava per diventare appunto duca d'Este, non lo voleva in quella carica, e allora lui dovette lasciare Modena. E così incominciò una serie di viaggi, tantissimi, tantissimi viaggi, per esempio si recò a Praga, si recò a Lisbona, si recò in Spagna, a Parma, a Guastalla. Poi solo per un brevissimo periodo ritornò nella società natale di Modena, e poi andò a Messina. A Messina già c'era passato forse nel 1657, e poi vi si trasferì decisamente negli anni fra il 1660 e il 1662. Insegnò nella scuola dei suordi e religioso dei teatini, coltivò interessi di matematica, di letteratura, ma poi si occupò sempre di più di architettura. Per esempio, la sua prima opera è stata appunto il progetto del completamento della Chiesa della Santissima Annunciata e del Collegio dei Teatini, ecco la Casa dei Teatini a Messina, anche se questo collegio fu costruito successivamente. Progettò il completamento della Chiesa di San Filippo Neri. Purtroppo, però, tutte le costruzioni che lui aveva fatto a Messina andarono distrutte durante il terremoto disastroso di Messina del 1908. Ci sono rimasti solamente dei disegni, delle illustrazioni come questa di Francesco Sicuro del 1700. E questa invece è una foto, ecco, abbastanza rara e preziosa, dell'altare appunto fatto, realizzato e progettato da Guarino Guarini nella Chiesa di San Paolo a Messina, anche quella veramente distrutta, durante il terremoto. Poi, dopo una breve sosta a Modena, Guarini in autunno si recò a Parigi. Ecco qua un altro disegno bellissimo, che per la Chiesa ancora una volta dell'ordine dei Teatini. La Chiesa di Saint-Anne-la-Royal. Guarini cambiò il progetto originario di questa chiesa. Anche questo edificio è perduto, possiamo vedere solo disegni come questo, che vi faccio vedere nella slide, perché fu demolito nel 1823. Tuttavia, il soggiorno in Francia c'era già stato prima anche a Parigi. Fu molto importante per la sua formazione. Per esempio, diciamo a rendere molto originale anche Guarino Guarini, fu l'interesse per l'architettura gotica. Il Guarini a Parigi si divise fra l'attività architettonica e la redazione di un volume, diciamo, di filosofia, di astronomia, di fisica, di metafisica. Ecco, poi fece ancora progetti per altre chiese in Europa, in grandi città, come la chiesa di Santa Maria da Altotting a Praga e Santa Maria della Divina Providenza da Lisbona. Anche in questo caso, tutti questi progetti, alcuni furono realizzati, ma poi purtroppo queste chiese, per un motivo o per l'altro, non ci sono più, non esistono più. Anche Lisbona, un altro terremoto anche Lisbona. Vabbè, sta di fatto comunque che dopo una serie di viaggi, di peregrinazioni, finalmente Guarino Guarini si stanzia a Torino dove creerà i suoi capolavori. Nel 1666. Ciao! Che belli questi cuoricini che mi state spedendo da Instagram. Nel 1666 arriva a Torino. inviato dal padre generale dei Teatini a dirigere i lavori di rinnovamento della chiesa di San Lorenzo. E questo, di questo parleremo fra poco, perché come vedete vogliamo iniziare subito però a parlare della cappella del Santissimo Sudario a Torino, la cappella della Sacra Sindone. e quindi Guarino Guarini diventa torinese. Il nome è ormai indissolubilmente legato alla città piemontese. Anche se, abbiamo spiegato, lui era modenese e anzi aveva girato tantissime città dell'Italia, del Sud Italia, a Messina c'era rimasto per parecchi anni, e di Europa. Stabilita un'immediata intesa con i Savoia, ecco qui, testimonata per esempio da questo monumento a Emanuele Filiberto di Savoia, Iguarini venne investito il 19 maggio 1668 della patente di ingegnere per la fabbrica della cappella del Santissimo Sudario, con tutti gli onori e con lo stipendio di lire mille d'argento o soldi venti cada un anno, da cominciarsi a principio di gennaio dell'anno corrente, quindi si intende del 1669. Ecco, a dire la verità, già c'erano stati progetti per una cappella, per la custodia e l'ostensione della Sacra Sindone, reliquia di cui i Savoia si vantavano perché era una delle più preziose della cristianità intera. E c'erano stati diversi progetti e diversi architetti che si erano succeduti in questa progettazione, però difficoltà di natura tecnica o insomma progetti evidentemente non così convincenti portarono a rimandare a rimandare. Guarini invece realizzò finalmente questa cappella collocata nella parte dell'abside del Duomo di Torino a contatto con il Palazzo Reale. Il corpo della cappella è cilindrico e poi ci sono tre pennacchi che reggono il tamburo dove sei finestroni si alternano a nicchie convesse. La cupola definita da costoloni che si intrecciano frantumando la superficie appunto di questa cupola da una luce diffusa una cupola caratterizzata da una luce splendida diffusa originalissima guardatela almeno voi che potete di Youtube e di Facebook questa cupola straordinaria grazie alle numerose finestre e così luminosa finestre che emergono all'esterno della struttura e poi c'è una linea che chiude che racchiude questi finestroni di grande originalità il coronamento ottenuto mediante la progressiva diminuzione degli elementi concentrici utilizzati purtroppo nel 1997 la cupola questa cupola della cappella della Sacra Sindone è stata danneggiata da un incendio quindi c'è stato un restauro particolarmente difficile durato una ventina d'anni conclusosi solamente nel 2018 abbiamo potuto rivedere insomma questa cappella così nella sua splendore originario io stesso quando sono andato a visitare Torino e vedere la Sacra Sindone ho visto che eravamo in mezzo alle impalcature perché stavano lavorando già da anni ecco godiamocene ancora queste immagini stupende della cupola della cappella della Sacra Sindone e questa invece è la parte diciamo inferiore di questa abside dove si trovano abbiamo visto questi monumenti sepolcrali intorno il coro chiamiamolo così dell'abside e al centro appunto questo credo che sia un altare che contiene la Sacra Sindone con delle statue non so se siete andati a vedere a Torino la Sacra Sindone sicuramente rimarrete colpiti da questa cappella e non dimenticatevi di alzare lo sguardo al cielo a vedere cioè al cielo in alto meglio per vedere questa straordinaria abside nel 1671 Guarini per un po' andò nella sua città natale a Modena però gli era stato detto di ritornare a Torino eh e qui lasciò un manoscritto il manoscritto di un suo trattato appunto di matematica di geometria lui l'abbiamo già detto è stato anche un grande scrittore qui vediamo per esempio un esempio appunto dicevamo della tavola dell'architettura civile in questi anni per esempio fu accolto bene dagli estensi che erano sempre stati ostili nei suoi confronti evidentemente era giunta anche diciamo dalle parti appunto di Modena e di Ferrara la fama di un architetto che era riuscito a realizzare questo progetto della Cappella della Sacra Sindone a Torino in maniera così mirabile scrisse il modo di misurare le fabbriche manuale per agevolare il calcolo delle superfici dei volumi una Celestis Matematica compendio di studi astronomici e poi collaborò all'impresa del Teatrum Statuum Sabaudie incominciano in questo periodo primi cantieri di chiese per esempio l'immacolata concezione ancora una volta la Casa Teatina San Vincenzo a Modena e poi ristrutturare il castello feudale di Emanuele Filiberto di Savoia Canignano a Racconigi il castello di Racconigi e questo è un progetto anche di questo parleremo fra poco siamo al 1679 appena quattro anni prima della morte Guarini era ormai affermatissimo aveva talmente tante commesse che non riusciva neanche a stare dietro a queste commesse quindi fece progetti per la chiesa di San Filippo Neri a Torino per il collegio gesuitico dei nobili in piazza San Carlo e soprattutto per il palazzo Carignano e per palazzo Madama il palazzo Carignano andiamo a vedere un attimo il palazzo Carignano eccolo qua con una celebre facciata a corpo centrale curvilineo ed è oggi il museo del risorgimento è l'opera civile guarignana più importante di questo periodo il cantiere fu avviato nell'agosto del 1679 e fu portato a compimento quando ormai Guarini era morto poi tanti progetti come la costruzione della chiesa di San Filippo Neri intanto venne nominato teologo della casa di Emanuele Filiberto quindi del allora non era ancora un regno quindi del duca di Savoia con una retribuzione annuma di 400 lire poi tornò a Modena ancora nel 1680 e c'era ormai un vero e proprio contenzioso tra Modena e Torino perché Modena voleva che rimanesse lì Guarini ormai diciamo figlio eccelso di questa terra e c'erano ancora e c'erano sicuramente tante belle opere da realizzare anche a Modena ma ormai lui era legato anche per contratto dai Savoia i Savoia gli davano una retribuzione di 400 lire l'abbiamo detto prima c'erano svariati contratti con lui e quindi insomma era rimasto in buona sostanza soprattutto a Torino si trovava nel febbraio del 1683 a Milano per curare la stesura del suo volume celestis matematici pars prima et pars secunda quando evidentemente in circostanze non ben definite morì il 6 marzo del 1683 vediamo che cosa dicono dello stile di Guarino Guarini alcuni importanti studiosi storici per esempio guardando questa pianta e prospetto di una villa leggiamo le parole di Mario Labò che definisce lo stile di Guarino Guarini in questi termini a Torino il Guarini rappresenta una corrente originalmente italiana che si contrappone alle tendenze francesi già presenti in Piemonte nella sua arte si rintracciano residui gotici misti con apporti ispano moreschi disonti in Sicilia e in Spagna da cui derivano specialmente le sue cupole o trafori assolutamente originale il suo senso plastico monumentale francamente ribelle alla metrica in uso ricercatore ansioso di nuovi ritmi e nuove forme certe raffinate virtuosità geometriche non potevano essere concepite che da uno scienziato ricordiamo infatti che Guarino Guarini era un matematico un astronomo l'influenza del Guarini fu grandissima e durevole fuori d'Italia specialmente in Bohemia e in Franconia leggiamo adesso quello che ha scritto un altro importante storico dell'arte che ho conosciuto fino a quando al liceo avevo il suo manuale di storia dell'arte verde Giulio Carlo Argan è stato anche un importante politico e sindaco di Roma l'idea del Bernini cioè l'immaginazione che si realizza diventa nel Guarini l'idea dell'ipotesi che si verifica e si verifica nel fare umano in una tecnica ma una tecnica che essendo piuttosto ricerca che attuazione è molto simile alla tecnica del Borromini Guarini infine è colui che riesce a dialettizzare le posizioni opposte del Bernini e del Borromini e a congiungere in un momento in cui la questione della tecnica sta ponendosi come fondamentale per la cultura europea due concezioni etico-religiose antitetiche della tecnica si veda la struttura nuda delle sue cupole un ritmo sempre più serrato di segmenti curvilinei lanciati nello spazio vuoto un istante di equilibrio miracolosamente fermato è l'istante in cui il calcolo matematico coincide col percorso della fantasia che tende a Dio l'istante in cui la logica coincide con la fede l'istante in cui Dio si manifesta nel pensiero e nell'opera ormai in sebarapidi il pensiero e l'opera dell'uomo la tecnica dunque è l'occasione del manifestarsi della logica divina dell'umano nell'umano e poiché la legge della logica divina è il miracolo l'architettura è miracolo logico e tecnico nella storia dell'architettura aspetta al guarini il merito di avere definitivamente chiarito un'istanza anticipata dal borromini la forma architettonica non è determinata da una concezione a priori dello spazio ma è essa stessa determinante di spazio o più precisamente di immagini di spazio e dunque la fine di tutte le tipologie classiche che non erano altro che schemi di strutture spaziali è l'inizio o il precorrimento dell'architettura moderna con queste parole di Giulio Carlo Argan dobbiamo riconoscere quindi un'eredità importantissima a Guarino Guarini quale forse iniziatore della modernità nel campo dell'architettura e intanto che stavamo leggendo queste parole di Giulio Carlo Argan in un certo senso la visione della sua cupola sopra la cappella della Sindone non ha fatto altro se non confermare quello che noi stavamo leggendo ritorniamo indietro adesso alla chiesa della Santissima annunziata a Messina forse la prima delle sue realizzazioni fu probabilmente quell'edificio che introdusse il barocco in Sicilia tra molte perplessità dei contemporanei il progetto di Guarini dovete tener conto di un corpo preesistente da completare e dal diverso orientamento dello spazio esterno per cui la facciata presentava un'insolita rotazione risolta con l'introduzione di un campanile in posizione asimmetrica la facciata ha vari ordini contrapposti e sovrapposti volevo dire dalla sagoma piramidale e dalla superficie mossa farà da modello a molte chiese siciliane del XVIII secolo l'interno della chiesa era caratterizzato da una cupola che anticipava quelle poi realizzate a Torino mi è capitato proprio di andare ad Agrigento e di vedere una bellissima chiesa barocca soprattutto bella per l'interno per gli stucchi di gesso presenti all'interno di questa chiesa e poi insomma proprio l'altro giorno abbiamo parlato del barocco di Matera e del barocco leccese sempre per Messina progettò la chiesa dei padri somaschi a pianta esagonale rimasta a livello progettuale nota grazie alle incisioni del suo trattato architettura civile il progetto sembra anticipare le grandi cupole nervate il trattato dell'architettura civile l'avevo visto prima ve l'avevo fatto vedere da qualche parte eccola qua una tavola dell'architettura civile il progetto dicevamo sembra anticipare le grandi cupole nervate poi realizzate appunto da Guarini a Torino anche se la datazione del progetto al 1660 non sembra certa potrebbe infatti aver lavorato anche in seguito non è detto che insomma progettasse queste chiese di Messina solo quando era a Messina magari anche qualche anno dopo andiamo adesso a parlare ecco quindi un disegno di quella chiesa della Santissima Annunziata di cui abbiamo letto la struttura piramidale mossa il campanile asimmetrico benissimo andiamo invece adesso a parlare della chiesa di San Lorenzo qui per esempio vista da Piazza Castello a Torino tra il 1668 e probabilmente l'anno successivo 69 realizza per i teatini la chiesa di San Lorenzo a pianta centrale ottagonale con i lati di forma convessa con un presbiterio ellittico apposto trasversalmente che introduce un asse principale nella composizione lo spazio a livello inferiore è definito dalla presenza di ampie serliane che delimitano le cappelle laterali la copertura è costituita da una cupola a costoloni i costoloni si intrecciano fino a formare l'ottagono sul quale poggia la lanterna e questo è l'interno ecco della chiesa di San Lorenzo ancora la chiesa di San Lorenzo vista da un'altra prospettiva e qui invece abbiamo una fotografia del castello di Racconigi in particolar modo possiamo osservare qua la facciata nord che volge verso il parco infatti su richiesta di Emanuele Filiberto quindi duca di Savoia detto il muto Guarino Guarini è incaricato di compiere la prima radicale trasformazione della fortezza medievale di Racconigi in una vera e propria villa di delizie a partire dal 1676 realizza il nuovo prospetto e lo scalone della facciata settentrionale eccola qua questa è la facciata settentrionale del castello di Racconigi progetta l'innalzamento dei due padiglioni con copertura a pagoda riusciamo a intravederli qua in alto nel 1681 invece amplia ulteriormente la residenza effettuando la copertura del cortile medievale del castello creando una nuova sala interna che nel successivo rimaneggiamento settecentesco diventerà il salone di Ercole traccia della sua opera negli interni può essere ancora oggi rinvenuta nelle sale dell'appartamento cinese con i caminetti e cornicione e nella sala della Diana in particolar modo per i caminetti ritorniamo adesso a vedere il bellissimo palazzo carignano la pianta del palazzo è un ferro di cavallo diciamo presenta questa facciata monumentale che alterna tratti concavi con parti con vesse in una configurazione riconducibile a progetti forse addirittura di Gian Lorenzo Bernini per il palazzo del Louvre e castello di Vaux-la-Viconte ma anche all'oratorio dei Filippini del suo grande maestro Borromini l'abbiamo già detto lui probabilmente cercava una mediazione tra Bernini e Borromini quindi possiamo vedere questo palazzo carignano stupendo l'originalità di queste forme curve e possiamo appunto immaginarci l'ascito l'eredità di Bernini e di Borromini un grande palazzo civile barocco che come vi stavo spiegando adesso è utilizzato come museo del risorgimento come potete vedere per esempio la gente in fila per entrare al palazzo carignano a Torino poi ha realizzato tante altre chiese quella di Santa Maria in Araceli a Vicenza che ha una pianta a doppia ellisse poi ancora la chiesa dell'Immacolata Concezione a Torino anche se alcuni mettono in dubbio l'attribuzione poi abbiamo già detto la chiesa di San Lorenzo e sulla base del progetto della chiesa di San Lorenzo Guarino Guarini realizzerà molte altre chiese a pianta centrale cupola o meglio progetterà queste chiese ma non le realizzerà mai progetto per esempio di San Gaetano a Nizza di San Filippo a Casale a Nizza allora faceva parte del territorio di Savoia San Filippo a Casale San Gaetano a Vicenza credo che sia Casale e Monferrato e tante altre chiese alcune di esse invece di essere a pianta centrale anche a pianta longitudinale Sant'An La Royale di Parigi l'abbiamo vista prima andiamo a rivederla se riusciamo a ripescare l'immagine eccola qua era a pianta centrale i classicisti francesi odiavano questa chiesa questa chiesa rimase incompiuta e poi come abbiamo spiegato fu demolita nel 1823 non era mai piaciuta insomma ai francesi lo stesso avvenne ad una chiesa a Praga Santa Maria da Altötting demolita mentre per quanto riguarda la chiesa di Lisbona Santa Maria della Divina Providenza fu distrutta dal terremoto molto importanti l'abbiamo già detto anche le sue pubblicazioni quella della architettura civile vediamo se riusciamo a ritrovare nuovamente ecco qui la tavola tratta dall'architettura civile un trattato architettonico che illustra i principi architettonici di Guarino Guarini e documenta con incisioni i progetti non realizzati e gli edifici poi scomparsi o demoliti o distrutti da terremoti ecco dobbiamo dire che in questo trattato Guarini dimostrò la sua apertura mentale e infatti non presentava solamente tra virgolette quello che poteva essere lo stile barocco quindi lo stile alla moda ma anche stili che all'epoca nel 600 erano visti con molto sospetto e disinteresse come lo stile gotico un suo continuatore e ammiratore l'architetto Bernardo Antonio Vittone completò la stesura del trattato di architettura civile ma come abbiamo spiegato ha scritto tantissimi altri libri come il compendio della sfera celeste eccolo qua di Guarino Guarini e poi ancora un trattatello sul modo di misurazione di misurare le macchine scusate un modo di misurare le fabbriche in questo trattatello insomma lui parla anche delle rovine dell'arte classica che comunque l'affascinavano quindi veramente un grande artista che non può essere incasellato in un unico stile perché oltre a quello barocco amava anche lo stile gotico e quello classico nel 65 pubblicò il trattato matematico filosofico poi dicevamo tanti trattati astronomici non solo questo compendio della sfera celeste ma anche leggi temporum et planetarum le leggi dei pianeti e la celestis matematica in due parti tra le opere di carattere letterario filosofico la pietà trionfante una tragica media morale benissimo abbiamo terminato quindi di parlare di questo straordinario artista e andiamo a leggere i commenti dei nostri amici su youtube per esempio Enzino Lorro che ci chiede dopo maratona non abbiamo ancora programmato le nostre dirette live e Angela Antonio Coppola che ci augura buonasera buonasera anche a te carissimo Angelo e buonasera anche a Simone che ci ha seguito da Instagram e a tutti quelli che insomma ci hanno seguito su altri canali come Facebook e che continueranno a seguirci o vedranno questo video in differita pertanto vi saluto vi do appuntamento a domenica quando avremo un incontro su Gaber e la televisione domenica le 3 aprile poi ci incontreremo il 5 aprile su Amore e Ginnastica di Edmondo Diamicis il 7 aprile su Liola di Luigi Pirandello scusate no il 7 aprile è la Palestina mentre Liola di Pirandello è il 9 aprile l'11 aprile su Bob Marley il 13 aprile su Robinson Crusoe di Daniel Defoe il 15 aprile su L'Ascesa di Napoleone e infine il 19 aprile sulla Battaglia di Maratona bene buonasera a tutti vado a salvare questa streaming diretta streaming su Youtube anche su Facebook e infine e infine e infine e infine e infine